MCKF Bigo, dal forum MCKF, uno dei modelli delle serie di coltello MCKF che non ho mai avuto. Si tratta del Bigo ed è un modello creato dopo sfortunatamente la morte di uno degli utenti del forum. Il coltello è un bel coltello da campo, l'accelo utilizzato è il CALMAX, è satinato, da questo lato abbiamo il luogo del costruttore, quello che l'ha realizzato, Leon Steel, e da quest'altro lato invece abbiamo il logo MCKF con il nome dell'utente che ha dato il nome al coltello. Questo è un modello custom, naturalmente uscito con delle vangette in micarta, che qui sono state sostituite con delle vangette in legno, anche abbastanza ben fatte, ha degli spaziatori rossi. Il coltello come dicevo è un coltello da campo, con lama da 6 pollici e mezzo, se ricordo bene. lo spessore è 6 mm e arriva fino a quasi alla punta, dove si va poi leggermente assottigliando fino alla punta. Abbiamo una parte zigrinata, che permette l'appoggio del pollice o dell'indice e sul fondo abbiamo un anellino per una sagoletta o qualcosa. Come dicevo, il coltello si impugna abbastanza bene, questa manicatura è ben fatta. è un ottimo coltello da campo, inoltre il calmax è un ottimo acciaio. La lunghezza poi non eccessiva permette anche un utilizzo per piccole uscite fuori porta, invece di portarsi un coltello troppo grande, questo è un modello da campo multifunzione. La presa in reverse non è ottimale perché il manico tende un po' a sfilare alla fine, ma il coltello non è stato creato per quella presa, ma per quella normale che comunque permette un ottimo utilizzo. mckfb.